ciao oggi vedremo questa bellissima maglia la quarta della juventus per la stagione 21 e 22 quella in collaborazione con cobra in edizione player quella indossata dai calciatori calcio e street art cobra juventus e adidas una visione comune una maglia unica e innovativa nata dalla sensibilità dell'artista brasiliano e dai valori di inclusività che da sempre contraddistinguono lo sport bianco nero la quarta maglia 21 22 è una vera e propria festa di colori caratterizzata da un pattern geometrico perfettamente incastrati tra loro gioca sui toni del bianco del blu e dell'arancione prefinita con le classiche stripe adidas sulle spalle si presenta come un capo unico che incarna la passione per l'arte e per il calcio una maglia manifesto in onore di un mondo più inclusivo siete qua cosa ne pensate nella mia personalissima classifica questa prende 5 stelle secondo me è una maglia bellissima dei colori veramente stupendi e è una delle mie preferite della stagione della stagione scorsa tra l'altro è voluta verso la fine della stagione quindi come se fosse della stagione nuova vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia e qui in alto vedete il costo come vedete bassissimo a questo punto non vi non vi rimane che provare la maglia è fatta veramente bene perfetta in ogni dettaglio con dei colori vivaci con le cuciture che non danno fastidio veramente una bella sorpresa e anche la spedizione è stata veloce come al solito ora prima di lasciarvi ti prego di poterci regalare un like e di iscrivervi al canale per avere altre recensioni in futuro per oggi è tutto ciao io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa quella che vedete è una taglia large della versione player o authentic